Stai per vedere l'ultima creazione di casa Simac. Simac, con 10 brevetti esclusivi, ha inventato per te Vapor Simac, il ferro da stiro ad acqua fredda. L'acqua fredda sale da qui già filtrata, senza calcare, e qui diventa vapore. Ora puoi stirare senza interrompere mai e con tanto vapore, 20 volte più potente. Vapor Simac, la forza vapore.